Iker Casillas e Xavi Hernandez riceveranno oggi il premio Principe dell'Asturie, consegnato proprio da Filippo di Spagna. Un ulteriore attestato di stima per questi due grandi giocatori, che hanno vinto quasi tutto a livello di club e con la nazionale iberica. Pur avendo già ricevuto il premio nel 2010, dopo l'impresa in Sudafrica, la giuria ha nuovamente considerato Xavi e Casillas meritevoli di predetto riconoscimento per la loro immagine in Spagna. I due giocatori, rivali dal punto di vista professionale, sono legati da una forte amicizia, iniziata con il trionfo nella Coppa del Mondo Under 20 nel 1999, il primo dei tanti successi ottenuti sino ad oggi. Considerati il miglior portiere e il miglior regista al mondo, Casillas e Xavi saranno omaggiati durante la cerimonia che si terrà oggi a Doviedo.